La Dinamo Banco di Sardegna cade al Paladesio al termine di una battaglia ai 45 minuti. Nell'anticipo della prima giornata di ritorno, l'Overtime premia la formazione casalinga della pallacanestro Cantù. Dopo un primo tempo in perfetto equilibrio, la Dinamo riesce a portarsi avanti nella terza frazione, condotta da un Super Daishon Pierre, un ottimo Darko Planinic e un concreto Jonathan Tavernari, fondamentale per accendere la fuga bianco-blu. Ma Cantù trova energie e risorse per riportarsi in partita e chiudere al quarantesimo in parità. Nei cinque minuti i supplementari i sassaresi non trovano il colpo di coda e cedono per 102-96. In sala stampa, coach Pasquini commenta a caldo il match. Abbiamo perso una partita che potevamo portare via. Non siamo stati in grado di chiuderla, per cui complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita vera con tutto il cuore. Tolti alcuni frangenti dal secondo quarto abbiamo difeso bene. Siamo partiti bene, sia in difesa che in attacco, nonostante Hacher e Bamford non abbiano fatto tanto canestro. Siamo stati bravi e furbi a trovare altri terminali offensivi. Per il resto è un momento in cui va così. Ora dobbiamo ripartire. Oggi abbiamo dimostrato che potrei tornare ad essere la squadra che eravamo due settimane fa e abbiamo digerito la sconfitta di Monte Carlo. Sull'episodio decisivo al termine del tempo regolamentare, dice «Il tecnico mi è stato fischiato perché avevo la punta del piede sulla linea. Ho visto la reazione che volevo dei miei ragazzi, specie contro una squadra che in casa sta facendo bene e purtroppo in una serata hai poca precisione al tiro dei nostri due principali terminali offensivi. Peccato, pensavamo di poterla portare via. Purtroppo l'ho decisa io con quel tecnico a 58 secondi alla fine con la palla in mano, pestando la linea. Ero stato avvisato, ma penso ci sia tecnico e tecnico. Un fallo del genere è fischiato nel secondo quarto a un peso diverso di 1 a 58 secondi alla fine. E comunque non piangiamo sul latte versato, perché domani al Palazzo Radimini arriva la Juventus Utena per la dodicesima giornata di Champions League.